e ringrazio tutti i sindaci presenti, consentitemi anche di fare un ringraziamento particolare, mi dispiace che si sia interrotto per la mia presenza un dibattito che consideravo fondamentale sul tema dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina e quindi voglio mandare un abbraccio al sindaco Di Leopoli e voglio dire che il governo italiano continuerà a essere fieramente schierato a sostegno della causa ucraina. Ovviamente voglio dire Presidente a te e a tutti i sindaci che sono molto dispiaciuta di non poter partecipare in presenza, in situazione di normalità non avrei mai mancato un appuntamento di questo tipo, non l'avrei mancato di persona, purtroppo noi non siamo attualmente in una condizione di normalità. Voi sapete che il governo è nato in un periodo particolare per la nascita di un governo, è nato in un periodo nel quale ci sono delle scadenze molto complesse, a pochi giorni dai tempi che sarebbero necessari ad esempio per la presentazione di una legge di bilancio. Stiamo lavorando al massimo della velocità che ci è consentita, chiaramente essere in presenza alla vostra assemblea mi avrebbe costretto a rinunciare a diversi altri impegni, ho provato e proverò a fare tutto, però poiché tengo ovviamente all'assemblea, all'importanza dell'assemblea annuale posso garantire fin da ora che sarò presente sicuramente di persona il prossimo anno, credo fermamente nel ruolo dei sindaci, non lo dico oggi perché sono all'assemblea, non è una questione di piageria, nella relazione programmatica che ho fatto al Parlamento qualche settimana fa immagino che abbiate letto, abbiate visto che tra le priorità che il governo che si era dato c'è proprio quello di dare una nuova centralità ai comuni d'Italia perché in fin dei conti l'identità italiana si fonda proprio sui comuni che sono i custodi delle nostre mille specificità e perché i sindaci oggi più di ieri sono la prima fila dell'impegno politico, sono la presenza più prossima delle istituzioni sui territori e svolgono probabilmente il lavoro più difficile che si possa fare nell'ambito istituzionale perché è un impegno che non conosce pause, è un impegno al quale ci si deve dedicare mettendo in fin dei conti sempre gli altri prima di se stessi, questo dovrebbe valere per qualsiasi persona impegnata nelle istituzioni ma per i sindaci è ancora più che per gli altri bisogna affrontare problemi a 360 gradi, molto spesso gli strumenti per affrontare quei problemi per dare risposte efficaci sono insufficienti e io ricordo sempre un passaggio della straordinaria saga di Don Camillo e Peppone scritta dal grande Giovannino Quareschi e mi ricordo questo passaggio in cui l'opinione pubblica a un certo punto dice al sindaco, a Peppone, voi siete il sindaco e dovete andare a vedere di che cosa si tratta, se avete paura è un'altra cosa però quando uno ha paura invece di fare il sindaco è meglio che faccia un altro mestiere, ecco io lo vedo esattamente così il ruolo dei sindaci, i sindaci sono per i cittadini il primo volto dello Stato, delle istituzioni i comuni sono l'istituzione di prossimità, sono quella che si fa carico di tutte le urgenze quotidiane rappresentano anche se vogliamo un avamposto di umanità, affrontano criticità di ogni genere anche oltre le proprie reali competenze e hanno tenuto soprattutto in questo periodo molto difficile saldo il legame tra i cittadini e le istituzioni quando a volte quel legame rischiava di spezzarsi la pandemia, la crisi economica, la guerra, hanno disorientato i cittadini, hanno costretto i sindaci a misurarsi con problemi che erano sempre nuovi, a volte perfino insormontabili per affrontare i quali dall'altra parte i sindaci non avendo tutti gli strumenti di cui avrebbero avuto bisogno hanno dovuto, diciamo si sono dovuti così insomma organizzare facendo ricorso la loro generosità, la dedizione, la creatività. Allora io voglio dire grazie, grazie ai sindaci italiani per come diciamo sono riusciti a mantenere viva la connessione tra le istituzioni e i cittadini mi spingo a dire qualcosa di più, spero di non essere fraintesa, per come a volte hanno perfino salvato la faccia delle istituzioni italiane nel rapporto con i cittadini. Ovviamente oggi diciamo voi siete chiamati a ricoprire molti compiti ulteriori rispetto a quelli che vi sono storicamente riconosciuti. Uno di questi compiti fondamentali è essere protagonisti nell'attivazione del piano nazionale di ripresa e resilienza, come ha detto il presidente Mattarella un appuntamento che l'Italia non può eludere. Il PNRR è come tutti sappiamo una straordinaria opportunità per modernizzare l'Italia e però perché le risorse non rimangano sulla carta è fondamentale proprio il ruolo di comuni, città metropolitane, province, regioni perché è sul territorio che diventano concrete le trasformazioni nelle relazioni economiche, l'innovazione nei rapporti sociali, gli impatti ambientali. Il governo ovviamente è pronto a fare tutto il possibile per consentire ai comuni di svolgere questo compito al meglio. In questi anni come voi sapete il ruolo dei comuni è stato fondamentale nella realizzazione delle opere pubbliche e questa è la ragione che poi ha portato a individuarli come beneficiari diretti nelle risorse da parte dello Stato senza cioè più l'intermediazione delle regioni. Io credo si tratti di un'innovazione molto importante ma anche di una sfida per i comuni e i comuni per affrontarla al meglio hanno bisogno che lo Stato li sostenga con misure e supporto di sostegno ovviamente. Il PNRR assegna ai comuni italiani 40 miliardi di euro principalmente per iniziative di rigenerazione urbana, realizzazione di scuole, asili, infrastrutture sociali. Come voi sapete il governo come il presidente De Caro sa il governo ha immediatamente riattivato a Palazzo Chigi la cabina di regia sul PNRR. Dai primi incontri che noi abbiamo avuto con le amministrazioni titolari è emersa diciamo la necessità di un maggiore coordinamento, di una collaborazione più forte tra il governo, la filiera istituzionale ma anche organizzazioni sindacali e datoriali quindi corpi intermedi. In buona sostanza serve un lavoro di squadra, serve un coordinamento che sia costante e strutturato che ci consenta di risolvere le criticità in tempo reale per arrivare all'obiettivo. Oggi siamo nella fase nella quale i comuni sono chiamati ad affrontare concretamente l'avvio dei cantieri. Per questo ovviamente è necessario accelerare l'iter di approvazione dei progetti, il rilascio dei pareri. Questo è un tema enorme su questo come ha ribadito il ministro Fitto. Noi siamo assolutamente aperti a ogni contributo utile nel passaggio tra assegnazione delle risorse e loro utilizzazione ovviamente come era inevitabile che fosse emergono tutti i problemi di un sistema di regole rigide, frammentate, complesse che sembrano diciamo nemiche del fare e alleate dell'inerzia. Io penso che la semplificazione delle procedure sia una priorità assoluta. Servono norme certe, semplici, stabili. Per questo uno dei primi atti del governo è stato quello di chiarire le modalità di affidamento dei lavori e dei servizi tecnici dei comuni. In tre anni la stratificazione normativa non consentiva ancora di capire chi avrebbe potuto procedere singolarmente e chi invece era obbligato a rivolgersi ad altre istituzioni. Noi abbiamo di fronte a questa richiesta di buonsenso che ci arrivava proprio dal Lanci, l'abbiamo accolta e siamo intervenuti. Però poi molto altro lavoro c'è da fare e dico di più, completati i lavori, l'altra sfida che noi avremo di fronte è quella di mettere i comuni in condizione di gestire questi servizi. Perché non è che possiamo permetterci di finire i lavori senza sapere come e quando quell'opera entrerà in funzione. E questo non vale solo per il piano nazionale di ripresa e resilienza, vale anche per le altre risorse. Penso ai fondi di coesione. Noi abbiamo su questo avviato un monitoraggio e riteniamo tra l'altro che i fondi di coesione come le altre forme di finanziamento europee e nazionale vadano complessivamente inseriti in una programmazione unica, più organica, strutturale che possa dare a questa nazione una visione strategica di insieme. Per questo noi abbiamo anche legato queste competenze a livello ministeriale, come sapete. Esattamente come dall'altra parte intendiamo verificare con la Commissione europea le misure più idonee a aggiornare il PNRR soprattutto alla luce del Repower You, affrontare il tema del consumo e della produzione energetica dei comuni perché anche sulla transizione ambientale, sulla sicurezza energetica il ruolo dei comuni sarà un ruolo centrale. Il punto qual è? Il punto è che per affrontare adeguatamente queste sfide che sono sfide enormi sappiamo che i comuni hanno bisogno che lo Stato e dunque il Governo sia un loro alleato. In questa direzione come i primi provvedimenti che noi abbiamo approvato in Consiglio dei Ministri, penso alla manovra di bilancio, penso al decreto accise, abbiamo scelto di intervenire con misure concrete, ovviamente le risorse non saranno mai sufficienti soprattutto in una fase come questa ma io penso che alcuni segnali siano in ogni caso molto importanti come ovviamente lo è per le famiglie e le imprese anche per i comuni per esempio una delle emergenze fondamentali da affrontare è quella del caro energia. Noi abbiamo per questo deciso di destinare a comuni, province e città metropolitane complessivamente su questa materia circa 530 milioni di euro. Oltre il caro energia una serie di altri interventi, abbiamo aumentato il fondo di solidarietà comunale che serve a compensare le minori entrate dei comuni per effetto delle riduzioni dell'Imu e della Tasi per aiutare soprattutto la spesa ai servizi sociali comunali asilinido. Diventa strutturale a regime e quindi non più una tantum il contributo di 110 milioni a favore dei comuni a titolo di ristoro per il minor gettito Tasi, abbiamo aumentato complessivamente di 250 milioni in tre anni le risorse destinate agli enti locali per le spese di progettazione degli interventi di messa in sicurezza del territorio e rischio idrogeologico, messa in sicurezza e efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici, del patrimonio comunale, la messa in sicurezza delle strade e poi il trasporto pubblico locale. Grande questione, qui davvero le risorse non bastano mai, però abbiamo anche qui tentato di dare un segnale importante destinando complessivamente 420 milioni di euro. Dicevo ovviamente le risorse non sono mai sufficienti, purtroppo noi abbiamo questa spada di Damocle del caro energia che drena la gran parte delle nostre risorse. Gli interventi per calmierare le bollette per le imprese, per le famiglie ci costano circa 5 miliardi di euro al mese e se non interverrà con, adesso stiamo ovviamente studiando le proposte che sono arrivate, se non interverrà la Commissione europea sarà ovviamente difficile senza una misura di carattere europea continuare a far fronte a questi costi che ovviamente ci trenano risorse su molti altri fronti. Abbiamo deciso di intervenire sempre con questa manovra per ridurre la pressione sociale sui comuni che diversamente dovranno individuare soluzioni per far fronte all'emergenza sociale. Voi sapete che noi abbiamo istituito un fondo contro il caro carrello, diciamo così, per il 2023 che è destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità per i cittadini che hanno un ISEE inferiore ai 15 mila euro. Primi interventi a cui state certi che ne seguiranno altri che però sottolineano l'importanza che per questo governo hanno i comuni che ovviamente necessitano di segnali concreti. Penso ad esempio anche al tema della finanza locale, su questo è necessario dare maggiore stabilità ai sindaci per garantire loro di poter programmare meglio e con più efficacia i loro interventi così come penso che sia arrivato il momento di affrontare il tema della responsabilità degli amministratori locali. È assolutamente necessario per come la vedo io definire meglio a partire dall'abuso d'ufficio le norme penali che riguardano i pubblici amministratori il cui perimetro è così oggi elastico da prestarsi a interpretazioni che sono troppo discrezionali. In una pubblica amministrazione che è intrisa di vincoli burocratici, che è affitta da ipertrofia amministrativa, i sindaci troppo spesso sono chiamati a interpretazioni che rendono le loro scelte rischiose e il risultato è che noi assistiamo al fenomeno della cosiddetta paura della firma ma qui torniamo diciamo così a peppone perché un amministratore oggi non sa se il suo comportamento non verrà giudicato criminoso domani. La statistica la conoscete meglio di me è drammatica. Il 93% delle contestazioni di abuso d'ufficio si risolve con assoluzioni o archiviazioni però dal momento dell'avviso di garanzia al momento dell'assoluzione passano anni. Reputazioni e famiglie vengono distrutte perché per una persona per bene il processo ovviamente è già una pena e io penso che noi non possiamo lasciare i nostri amministratori in balia di norme penali così elastiche da prestarsi a interpretazioni molto arbitrarie e peggio ancora non possiamo arrenderci alla paura della firma perché la paura della firma inchioda una nazione che invece ha bisogno disperato di correre e di liberare le sue energie. Allora penso che bisogna mettere i sindaci e gli amministratori nelle condizioni di poter firmare serenamente, di sapere oggi per domani se la firma costituisca o meno un reato, di avere certezze in ordine al perimetro dell'escito e dell'illecito. Come dite voi molto spesso diciamo non è che si pretendono immunità funzionali, non si reclama impunità, si chiedono però regole certe per sapere quale sia il perimetro della legalità entro cui muoversi. Intervenire su questo fronte vuol dire dal mio punto di vista non salvaguardare i furbi ma tutelare gli onesti che vogliono fare il proprio dovere bene e dare risposta ai cittadini e per questo il governo si metterà al lavoro, vi annuncio, per modificare una serie di reati contro la pubblica amministrazione a partire dall'abuso d'ufficio perché noi vogliamo garantire regole certe, pene certe, serenità a chi voglia operare nella legalità senza rischiare processi lunghi e disonorevoli per le persone per bene. Dopodiché coesione, unità, sussidiarietà, solidarietà, penso sia da questi principi che deve ripartire il processo di riforma delle nostre istituzioni, altra grande materia per dare più forza, efficacia e concretezza alle istituzioni. Crediamo che debbano essere più forti lo Stato ma anche le Regioni e i Comuni, ciascuno nel proprio ambito di competenza e di funzioni in un'ottica di collaborazione e di cooperazione. È un obiettivo che può essere perseguito se ciascuno ovviamente sviluppa al meglio la propria vocazione istituzionale e cioè lo Stato garante dell'unità della nazione e dell'uguaglianza dei cittadini, le Regioni, enti di legislazione e programmazione territoriale e i Comuni, istituzioni di prossimità con funzioni di amministrazione e di gestione dei servizi. Noi vogliamo dare vita a una nuova stagione di riforme ma credo che la nuova stagione di riforme vada scritta in un quadro di coesione nazionale che preveda fondamentalmente due direttrici, presidenzialismo e attuazione dell'autonomia differenziata. Io approfitto diciamo anche di questa occasione per sgomberare il campo da qualche equivoco. Il nostro lavoro intende muoversi nel solco della Costituzione cioè muovendo sulla base degli articoli 116 e 117 della Costituzione ma anche del 119 cioè l'articolo sul riequilibrio e la coesione economica e sociale. Su questo voglio che diciamo siamo chiari. I problemi e i rischi futuri che da alcuni vengono paventati in verità altro non sono che una fotografia della situazione esistente. Il Presidente De Caro ha detto che il percorso costruito con il federalismo fiscale nel 2009 non ha acuito le disparità ma ha consentito a tutti di fare passi in avanti. Ecco noi intendiamo muoverci esattamente in questa direzione. La maggiore autonomia che ciascuna regione potrà chiedere avrà come unico obiettivo quello di non creare disparità tra i cittadini e soprattutto consentire alle regioni che già oggi sono indietro di realizzare le riforme e le infrastrutture necessarie per migliorare l'efficienza e la qualità dei loro servizi e questo è un duplice obiettivo che ci poniamo per dare all'Italia un sistema istituzionale che sia più adeguato, più adeguato a rispondere ai bisogni dei cittadini, alle esigenze del suo sistema economico, al nostro ruolo anche di fronte all'Europa a livello internazionale e io davvero mi auguro che in questa sfida epocale che abbiamo davanti i comuni italiani possano essere nostri alleati in un rapporto che deve essere ovviamente franco di tutela e di difesa ciascuno del proprio ruolo, ciascuno dell'interesse dei cittadini che rappresenta in misura più prossima ma alla fine rappresentiamo tutti gli stessi cittadini e quindi credo che sia un lavoro che possiamo fare insieme come tutti i lavori che ho cercato di elencare in questo mio breve intervento, semplicemente per dire il governo ci sarà, sarà al vostro fianco perché l'Italia è messa in una situazione diciamo un po' complessa, però io credo anche che abbia il vantaggio della forza, della dedizione, del coraggio, della creatività dei suoi cittadini e di coloro che li rappresentano. Noi ce la mettiamo tutta, voi ce la mettete tutta come sempre, se lavoriamo insieme penso che davvero possiamo fare un ottimo lavoro. Vi ringrazio, mi scuso ancora per non essere stata fisicamente presente con voi e spero al più presto di avere altre occasioni, un confronto anche diretto. Grazie.